Ciao ragazzi, ciao a tutti, video molto serio oggi, è arrivato il momento di dire la verità, di spegnere letteralmente tutti quelli che accusano senza dire la verità e anzi cercando di diffamare una persona quando non esistono prove ma soprattutto quando la criticano su robe che non esistono assolutamente, cose che vedono con i propri occhi e che credono di vedere soprattutto e che quindi interpretano male per poi raccontare alla gente, cosa che mi fa incazzare in un modo incredibile, voi non avete idea di quanto mi faccio letteralmente incazzare. Cosa è successo a Pesaro ragazzi? Per chi mi segue, chi mi segue su Instagram, chi mi segue sui social e chi mi segue su YouTube da molto tempo sa che sono un player molto molto competitivo, un player che prende molto seriamente le competizioni e che ama vincere. Una persona che è entrata nel mondo degli esports e che sin da quando è entrato ha giocato a livelli molto alti e ha sempre voluto giocare seriamente. Cosa è successo a Pesaro? Per chi avesse visto abbiamo perso il primo turno contro Piola Vendetta. GG a loro, un livello che non mi sarei aspettato, c'era gente che ha scritto avete perso perché avete sottovalutato gli avversari, sì in parte, nel senso credevo sinceramente di essere che il nostro team avesse avuto più fortuna di tutti gli altri, cioè di avere avuto il team che reputavo il meno bravo tra tutti e invece non è stato così, ma di sicuro non è stato quello il motivo per cui ci ha fatto perdere. L'analisi delle partite arriverà nella seconda parte di questo video, adesso lasciatemi un attimo parlare perché voglio dire la mia riguardo a quello che sta girando adesso nei social. Del tipo, persone che sono venute a Pesaro, che non mi hanno rivolto nemmeno una parola, ma nemmeno una parola, Narcos mi ha rivolto più parole di loro, e che osano dire nei social, nelle loro storie, nei loro profidi, roba assurda su di me. Roba del tipo che mi uscivano le vene dalla testa, e che io insultavo i miei compagni dentro alla sala dove abbiamo giocato, dove potevano sentirci Grax, Nemus, e che ci guardava dalla live. Io che scleravo e urlavo ai miei compagni di fianco a me con tutte le telecamere puntate su di noi. Voi credete davvero io abbia fatto una cosa del genere? E soprattutto in un live io, che ho tante esperienze in questo mondo, mi metto a fare una roba del genere sui miei compagni? Credete sia un deficiente? Credete che non sappia cosa sia l'ansia psicologica, l'ansia da prestazione? E mi metterei a farlo ad un mio compagno che è a Lucca, ha già avuto i suoi problemi, voi sapete quali problemi? Credete che non abbiamo lavorato come team per risolvere l'ansia, per aiutare Lucca a migliorare? E credete che io abbia rovinato tutto il lavoro che c'era stato dietro, aggredendolo lì davanti? Persona che ha fatto queste storie, vatti a ripigliare e soprattutto impara a non dire le cose alle spalle. Che lì a Pesaro eri tutto timidino, neanche il coraggio di dire una parola. Non essere così falso, perché diventi una brutta, cattiva persona e tu sai di chi parlo. Non farò nomi in questo video, non ne farò neanche uno, perché mi seguisse su Instagram, sono stato accettato nel mondo del Supercell Creators, e ovviamente devo rispettare dei limiti, cioè non potrò mai criticare nessuno, starò nei miei limiti e mi comporterò bene. Vi ripeto, questo video è soprattutto per, come dire, eliminare le cose che mi sono state fatte, perché sono assolutamente infondate. Quindi è questo lo scopo del video e dopo analizzare le partite. Perché sì ragazzi, ho scritto nei social che la nostra sconfitta è stata del tutto stupida e nel video di oggi ve lo farò vedere analizzando nei minimi dettagli il video. A proposito, qua in sottofondo vi dovevo lasciare il video così mentre vi intrattenemo, ma mi sono dimenticato di farlo partire. Quindi, un altro tipo di accusa appunto, che il mio comportamento dopo la sconfitta è stato del tutto maleducato e soprattutto aggressivo. Finita la partita, prima di tutto ci siamo dati le mani con gli avversari. Potete guardarlo dalla live dell'evento. Date la mano, congratulati con gli avversari. Finito l'evento, me ne sono uscito in modo silenzioso, strappandomi con me vicino, cioè portandomi vicino a Jova, uno degli avversari che faceva parte del team Viola Vendetta. Jova è mio amico, giocava a Fortnite con lui insieme a Manny, ma questo prima di entrare nel mondo competitive di Brawl, quindi ci conoscevamo da molto tempo, ed è stata una sorpresa per me Beccaro a Pesaro, non sapevo neanche se si fosse qualificato sinceramente, quindi Beccaro a un amico è tanta roba. Me lo sono portato vicino e ci ho parlato un po', mi ha aiutato un pochino, come dire, a rilassarmi. Ero teso, ero arrabbiato, quello sì, ma non ho sfogato la mia rabbia né la mia ira su nessuna persona. Voi potete chiedere la conferma a chiunque. Una volta fatta la sconfitta ho preferito starmi nel zitto, nel mio e non parlare con nessuno, per sfogarmi da solo, mentalmente, senza sfogare la mia ira su qualcun altro. Per fortuna comunque c'erano anche le partite da basket da guardare, le semifinali della Final 8, sapete che il basket è uno dei miei sport preferiti, e anche quello mi ha aiutato molto. Mi sono messo lì, ho guardato le partite e mi sono tranquillizzato. Ma la primissima cosa che ho fatto una volta terminate le partite è stato prendermi Giova vicino, portarmelo in un angolino e parlarci. dirgli cosa hai pensato della nostra prestazione, se mi vedi così deluso è perché abbiamo lavorato molto, scrim dopo scrim, ho rinunciato a studiare per gli esami, per preparare questo evento. Tra due giorni ragazzi che voi guardate questo video, io ho un orale di geometria e sono messo molto indietro, perché ho preferito preparare questo evento, che per me era importante, la prima introduzione nel mondo dei Clash, fare una bella figura davanti alla famiglia dei Clash, ma così non è stato. E ora vi farò vedere le motivazioni per cui non è stato. Motivazioni che a mio parere mi hanno fatto molto arrabbiare, perché una preparazione del genere, ve lo posso assicurare, nessun team lì lo aveva. E perdere, perché alla fine ragazzi, i miei compagni, posso dirlo tranquillamente, sono arrivati lì che non avevano la mentalità giusta, non avevano il giusto sprint, la voglia di dire, se sono arrivato a Pesaro io voglio vincere, è l'unica cosa che ho ed è il mio obiettivo. Sfacciati, posso dirlo ragazzi sfacciati, nel senso che sono venuti con poca grinta. Ed è stata questa la chiave principale ragazzi della sconfitta. Questo in primis. Di seguito ragazzi l'organizzazione, l'evento era organizzato molto male, se avete visto la live, io ero seduto a sinistra, come capitano richiedevo di starmene seduto in mid, in mezzo, nella potrona di mezzo, per poter parlare con i miei due compagni, perché sono io che chiamo le giocate ed essere lontano da Atom non era per niente utile, perché dovevo urlare affinché lui mi sentisse e urlando anche gli avversari potevano sentire dato che gravamo uno di fronte all'altro. Quindi il secondo fattore che ha influenzato sulla sconfitta è stato questo. Ma non ci sono scusanti, la sconfitta l'abbiamo fatta perché principalmente si è giocato male. Detto ciò, accuse ragazzi completamente fondate quelle sui social, mi hanno fatto incavolare in un modo incredibile, perché poi la gente ci crede, e non ha senso che venite a Pesaro potete dirmi le cose in faccia e non lo fate, per poi una volta terminato l'evento dirlo alle spalle. E' sicuro che la vita ragazzi non funziona così, dovete dire una cosa, ditemela in faccia e sarò pronto a confrontarmi con voi. Modo aggressivo o non, ma sarò pronto ad affrontarmi con voi. Perché non me la dite pure in faccia ragazzi? Alezzo, come Spectral, gente che, avete visto che commenti razzisti avevano fatto nei social prima di Pesaro? Su di me e su altre persone. Arrivano lì, Spectral Rega non ha detto una singola parola, una singola parola non ha detto, con me, non ha spiccicato una singola parola, per poi ritornarsene a casa e riprendere con gli sulti razzisti. Alezzo, idem, idem ragazzi, tutto lì timidino a farsi i suoi affari come se per sembrare una brava persona. E poi? Un'altra prova ragazzi della nostra preparazione è io e il coach di Clash siamo rimasti fino a luna di notte a preparare un foglio che prevedesse tutte le comp e i ban da fare in ogni singola mappa del gioco. I fogli sono quattro né Lucas né Atom hanno contribuito nel farlo, siamo rimasti io e il coach fino a luna di notte per farvi capire l'impegno che ci mettevo ragazzi affinché l'evento andasse bene. e niente. Ora vi farò vedere gli errori banali per la quale si è perso e cosa che volevo dirvi? Mi sono dimenticato, volevo dirvi adesso una cosa importante ma mi sono dimenticato. detto ciò andiamo ragazzi a vedere quello che vi dicevo cioè l'analisi delle partite e vedrete che dopo questo mi darete ragione. Dato che so che molte persone guarderanno questo video anche se è lungo non mi interessa l'importante è dire la verità mi raccomando lasciate like iscrivetevi e scrivete nei commenti cosa ne pensate qualsiasi commento che sia una cazzata io vi assicuro verrete perbamannati dal canale non potrete più guardare i miei video quindi siate molto attenti a quello che scrivete perché d'ora in poi ragazzi io non voglio più avere dover affrontare delle cagate del genere perché non è più possibile che una community si ritenga disunita quando e questo viene detto dalle persone che disuniscono la community stessa non è più accettabile da me verrete permabannati per qualsiasi roba stupida che verrà scritta nei commenti quindi siate attenti a quello che scrivete le critiche costruttive sono ben accette ma le cagate no iniziamo ragazzi con l'analisi per di più ho uno strumento che mi permetterà di muovermi meglio nell'analisi stessa del video allora andrò più veloce perché siamo già a 10 minuti quindi non vorrei tenevi troppo prima partita di gem mi sono ricordato ragazzi che ho registrato una partita in meno quindi una partita di brawl ball non la vedrete allora possiamo vedere come adesso si è una situazione normale ma guardate il lato sinistro voi dovete guardare attentamente questo lato qua dove da carl non si vincerà nemmeno una volta in lane ho cambiato colore così potrete vedere meglio vedete come vi posso appunto disegnare perfetto ok carl è abbastanza difficile da tenere quello si qua faccio un grab va bene chigliamo vedete qua abbiamo recuperato due gemme qua lucas ok lo sta tenendo abbastanza bene vedremo che cosa lo manderà in tilt qua se ne ritorna indietro vedete torna indietro il rico già inizia ad avanzare su di me primo push nei miei confronti qual è il suo errore andare da questa posizione qua rico ovviamente ha un range molto più lungo di carl e lui rimane tende a rimanere qua non dice me ne vado da qua dietro e provo a pinciarlo no rimane lì dietro facendogli ricaricare una ulti e di conseguenza ammazzando me qua viene grabbato e ok cosa succede qua fermo un attimo aspettate un attimo che fermo succede che io chiamo lo switch del lane cosa che se un player si reputa forte deve comprendere da solo prima di tutto vedi che Daryl è contro una Bea Bea è un counter dei tank lo switch dall'inizio della partita non c'è bisogno che avverdi la mia call per farlo il capitano l'ha chiamata io l'ho chiamata comunque la call ed è stata fatta quando come potete vedere anzi non lo potete vedere vi ridico un attimo lo schermo oppure metto la webcam qua sotto due secondi ragazzi ok e quando loro hanno ve lo dico io 6 gem quindi già in ritardo avviene lo switch e come vi ho detto lo switch l'ho dovuto chiamare urlando perché Atom era dall'altra parte della stanza quindi non dovuto farlo un'altra ulti sempre di Rico e ho visto molti commenti Mauri ti ha fatto il cu eh avete capito Mauri ti ha distrutto Mauri ha giocato bene ha giocato il suo ma i suoi compagni tenevano il lane un mid da solo non può giocare bene ragazzi c'è bisogno di supporto il lane siete d'accordo con me o no Mauri aveva sempre i suoi compagni che tenevano il lane Larry non è mai morto Zach morirà una volta che adesso che Atom ha fatto un roll e lo ammazzerà ma i compagni tenevano sempre il lane io ero costretto a tornare indietro Enrico era sempre addosso a me è ovvio che Mauri fa una figura migliore perché ha sempre il mid conquistato grazie ai lane di conseguenza conquistati analizzate le partite ragazzi prima di commentare per favore procediamo ora guardate qua cosa succederà l'errore più grande che farà perdere questa partita che era una partita vinta io ritorno in mid continuo a giocarmela bene nel senso che guardate sono morto lì perché Enrico continuava a pushare su di me aiuto qua grabbo l'abea l'ammazzo primo rush primo rush di Lucas ditemi il motivo lui ha la ulti lui ha la ulti vedete anche Genio ha la ulti perché questa ulti qua e ne sbaglierà molti durante la partita ragazzi ne sbaglierà molti perché questa ulti non l'ho sinceramente compresa siamo 9-10 e qua ragazzi arriverà il flop più totale da parte di Atom spiegatemi che cosa ha fatto avvio nona chiamo la giocata di prendere la decima Gemma qua lui rolla si va ad ammazzare a proposito non vi ho descritto bene cosa succede qua guardate a sinistra ragazzi il nostro Daryl lo pusha con quanta vita lo lascia 150 qual è il motivo per cui non lo finisce Rico rimane vivo ricaricherà la ulti qua oltre che lui ha sbagliato questo roll qua andando da le ha ricaricato la ulti io questione di secondi se arriva Rico con la ulti guardate qua se arriva Rico con la ulti io sono costretto a tornare su perché altrimenti mi avrebbe ammazzato con la ulti nel momento in cui torno su Genio Maury mi grabba ma è un grab dovuto tutta quella situazione che Atom aveva creato lì in alto a sinistra avete visto non ha finito il Rico il Rico di conseguenza è venuto ha ricaricato la ulti mi ha costretto a salire di un millimetro sopra e poi mi ha ammazzato Mauri mi ha grabbato Mauri ma era un grab dovuto al fatto che io dovevo tornare un pochino su per poi evitare la ulti di Rico qua cosa che secondo me l'unica cosa che ho sbagliato dalla partita è una volta che abbiamo zerato il Kandan sono rimasto lì potevo andarmene a sinistra rimango lì e mi ammazzano lì non c'era più nulla da fare potevo andarmene a sinistra come vi ho detto ma comunque sarei stato chiuso da Rico piuttosto che rimanere lì potevo provarmene ad andare a sinistra lo ammetto io i miei errori ragazzi li ammetto potevo farlo non l'ho fatto non so cosa fosse successo però lo ammetto è stato un mio errore ma non credo proprio che la sconfitta della partita fosse dovuta a quel minimo errore prima partita ragazzi analizzata spero siate d'accordo completamente con me andiamo con la seconda andiamo con la seconda nostra comp ragazzi allenata per mesi allenata per mesi perché vedrete adesso come Lucas vincerà subito l'enda Daryl lo ammazzerà perché Max è forte ma guardate qua cosa succederà si killa il Daryl qua perché rimane qua e non hitta Piper mid avete visto come si è tiltato Lucas avanti indietro avanti indietro tutto il tempo perché se ammazzi Daryl non vai a supportare in mid lo rivince ora ora lo fa perché prima non l'ha fatto non l'ho compreso ecco errore a mio parere più grave di tutto il torneo che ho fatto è stato questo grab e lo ammetto ho utilizzato per sbaglio l'auto aim guardate qua piuttosto che grabbare Piper perché volevo grabbare Piper mi è scattato l'auto aim questione di pochi secondi guardate utilizzo la ulti volevo utilizzarla su Piper perché potevo grabbare grabo grabo Carl sbagliando ma anche Atom sbaglia l'ulti non rolando su Carl e quindi facendo sittare ancora un miliardo di volte e lo ammetto errore grave da parte mia ma la partita non è stata persa nemmeno per questo errore e lo vedrete adesso procediamo vedo che Carl ha l'ulti e vedo che Atom è bloccato lì deciderò di fare abbastanza grab verso Atom qua mi avvicino per curarli con la star power ritorniamo indietro Carl se ne ritornerà a sinistra e da ora in poi deciderò di aiutare Atom grabbando Carl e liberandoli di più la zona guardate come me ne andrò a sinistra dato che Atom appunto lo vedevo lì bloccato aspetto che il treno arrivi ne approfitto grabbiamo facciamo fuori Carl easy qua lo faccio fuori mi ricarico un'altra ulti e stavolta un'altra ulti sprecata ma questa volta mi è sfuggito il dito testimoni i miei compagni potete chiederglielo mi è proprio sfuggito il dito adesso lo vedrete perché si comprende anche dal video vedrete che è proprio un'ulti dici ma perché l'hai usata mi è scappato il dito guardate qua guardate che ulti non volevo utilizzare cioè le avversari lontanissimi neanche dire avevi provato a fare quel grabb no perché erano lontani mi è proprio sfuggito il dito qua guardate un po' qua Atom fa un ottimo roll perché comunque rimane vivo e gli ha chiusi un botto e rimaniamo vivi lo curo manca l'ultima gemma qua approfitto per rittare Darryla finché non rolli rimanga one shot ritorno da Atom rigrabbiamo quel calo perché si è camperato lì e ovviamente va fatto fuori manca una gemma la prende Lucas come down ribagniamo lì perché ci vuole l'ultima gemma guardate Lucas tutti i movimenti che farà andrà qua andrà in questa zona qua prendiamo l'ultima gemma qua fa bene a chiuderli fa bene a spararli però arriva l'ultima gemma perché cosa spara qua? ai treni? guardate quante ferite ha preso guardate quante ferite ha preso morto grab tentato all'ultimo secondo magari sbagliato sì però ci ho provato nel senso sta scappando un caldo e morisettare ma perché quella morte di Lucas? quando sei full vita perché non torni indietro? soprattutto dopo che vedi che la nostra gemma è stata che l'ultima gemma è spanata dal nostro lato perché non torni indietro? e ci lasci vincere questa benedetta partita che ci avrebbe fatto vincere il set di gem grab quindi seconda partita trovata ora andiamo all'ultima perché come vedete Brawl Ball abbiamo perso 2-0 andiamo direttamente all'ultima di Brawl Ball non so perché non ho registrato l'altra partita andiamo subito a vedere il movimento sbagliato di Atom palla qua guardate quanto feed farà inizialmente Atom one shot one shot già dallo start la palla va lì la passa lui è morto morte lo start passaggio molto fortunato da parte degli avversari ma ciò che ha innescato il tutto ora ve lo faccio vedere è il fatto che Atom non abbia deciso di stare dietro a questi benedetti muri ma avessi disporsi di esporsi di rimanere one shot tornare qua dietro farsi fuori io rimango qua contro una e una due persone ovviamente prendono la palla passaggio fortunato e vanno a segnare però come detto il gol è stato innescato principalmente dalla morte inutile di Atom qua vedete come se l'è già giocata meglio guardate come è arretrato e non è morto inutilmente ma questo doveva farlo dall'inizio qua me ne vado avanti e qua arriverà l'altro gol che considero molto molto fortunato mando avanti perché ormai il video dura 20 minuti guardate qua quello che reputo davvero un dubbio esistenziale della partita allora palla lì Sandy si ricarica la ulti vedo che Daryl l'avversario ha la ulti la tira lì a voi non vi viene da pensare che Daryl sfrutterà l'avversario Daryl sfrutterà l'invisibilità per prendere la palla e rollare avanti a me si è venuto da pensare a quello quindi dico prendo la palla la porto avanti in qualche modo in qualche benedetto modo aspettate un attimo mi tilto sempre in qualche benedetto modo nel momento in cui io prendo la palla e la tiro avanti Daryl riesce a fermarla rolla qua e tira secondo gol secondo gol quindi preso in parte per colpa mia per quel roll che io ho detto sto rolando avanti per quale motivo Daryl dovrebbe fermare la palla se gli rollo addosso con quale concetto della fisica di Brawl riesce a fermare la palla però c'è anche da dire vedo se posso diminuire la velocità di riproduzione non mi sembra allora ve lo farò vedere io Atom prende la palla guardate qua la palla le arriva dopo che Daryl l'ha tirata per rollare prende la palla ma non è così veloce non è così veloce da da mandarla via prima che Daryl la riprenda finito questa analisi vorrei davvero che voi commentaste con cosa ne pensate se siete d'accordo con me io vi assicuro che qualsiasi mia azione o reazione presa ha comunque delle motivazioni valide sono uno che gioca da tanto tempo questo gioco lo conosco bene e so quando una squadra dovrebbe vincere e quando non ci eravamo allenati tanto le compi utilizzate erano state allenate e perdere così ragazzi vi giuro mi ha fatto molto arrabbiare e come ho detto non ho sfogato la mia area su di nessuno assolutamente anzi mi hanno aiutato in molti a parlare a sfogarmi parlando con loro gli OS come vi ho detto l'AREZ e tutto qua quindi il video termina qua so che molti di voi lo aspettavano eccolo e niente vi ricordo di iscrivervi di lasciare like e di commentare con la vostra ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao